Si chiamava Lorenz Focetto, aveva 58 anni di età e è morto noi il discorso. Pensate che costui aveva ricevuto il cuore di un maiale che gli era stato trapiantato, non ce l'ha fatta a distanza di circa 6 settimane dall'intervento che lo ha visto protagonista in quanto gli è stato impiantato, non è trapiantato il cuore, non ce l'ha fatta ed è morto. Va bene, una vicenda questa che è dell'incredibile, che vi fa capire che un cuore di un maiale non può essere impiantato o meglio trapiantato su un essere umano, perché morfologicamente parlando e funzionalmente parlando il cuore animale o meglio del, come si dice, del maiale è diverso. Sembra che i medici non ne abbiamo tenuto conto. Vi ringrazio per l'ascolto, Lorenz Focetto, riposi in pace.